Namaste, vi voglio personalmente invitare al corso dell'Upa de Shamrita che si terrà a breve in educazione vedica. Sarà un bellissimo corso lungo una strada che è stata tracciata da Shilarupa Goswami, che è uno dei discepoli di Sicitania Mapo, siamo nel 1500, in cui viene spiegato il percorso spirituale della Bhakti, diciamo proprio dall'inizio, dove una persona lotta per cercare di far combaciare il proprio lato umano, corporeo, con quello spirituale, le proprie intenzioni e motivazioni spirituali, fino ad arrivare ai punti più alti della coscienza dell'essere. E' un viaggio meraviglioso in 11 incredibili versi che accompagneranno il nostro cammino, la nostra consapevolezza, dal punto in cui siamo e in cui stiamo lottando per migliorare, fino a farci vedere, darci un assaggio di quella meta così affascinante, così meravigliosa, che la Bhakti ci propone e ci promette. E' un viaggio che faremo seduti a casa nostra, nelle nostre sedie, con i nostri tempi, che faremo incontrandoci regolarmente per scambiare idee per chi vorrà sfruttare l'occasione, ed è un viaggio che non solo ci farà affrontare delle tematiche importanti per la nostra vita, e che potremo poi trasformare gli strumenti per aiutare gli altri, ma ci aiuterà a entrare in profondità dentro di noi stessi e in profondità nei segreti della vita. Vi aspetto. Fate questo viaggio insieme a noi. Vi auguro ogni medio. Hare Krishna. Grazie. 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 Grazie.